L'Inter è in una crisi clamorosa, probabilmente non irreversibile perché ha ragione Inzaghi quando dice che la partita fra 72 ore con la Juventus potrebbe farci dimenticare questa amarezza. Però ci sono un paio di cose che vanno dette sulla stagione dell'Inter. La prima è contro Inzaghi, la seconda invece no. Allora contro Inzaghi è che l'allenatore non può a mio avviso presentarsi così abilito dopo una sconfitta tanto pesante in casa. Tre sconfitte nelle ultime quattro partite, prestazioni veramente sconcertanti, dieci sconfitte in campionato. Insomma, vedere Inzaghi sull'orlo della depressione non fa bene né a lui, alla sua immagine e probabilmente neanche alla squadra. Perché comunque un allenatore in certi momenti deve anche rovesciare un tavolo. Se non altro per far arrivare una scarica di adrenalina alla squadra. Ecco, Inzaghi sembra pericolosamente ripiegato su se stesso. Sembra un allenatore che non ci crede più, un allenatore che non vede l'ora che finisca la stagione, che non sa più bene quali leve toccare, neanche quando parla in pubblico. Che è una delle leve più importanti, perché poi certe dichiarazioni hanno un effetto sui calciatori anche maggiore rispetto a quelle che poi vengono dette invece nella sacralità dello spogliatoio. Però la cosa invece che va detta pro Inzaghi è un'altra. E cioè, non possiamo dimenticare in quali condizioni stia vivendo l'Inter in questo momento. Perché sono stati bravissimi Marotta e Ausilio a nascondere un po' la spazzatura sotto lo zerbino. Ma in realtà ce n'è troppa e non si riesce più a nasconderla. Proviamo a fare un'analisi seria della situazione dell'Inter oggi. Allora, tanto per incominciare, l'Inter è una squadra dove ci sono alcuni giocatori che sono a scadenza di contratto e non si sa se resteranno. Qualche giocatore addirittura è già andato via. Skrignar, che va a fare le visite mediche al PSG, o comunque va a farsi visitare perché crede di più nel PSG che nell'Inter. Altri giocatori ancora sono arrivati ma sembrano essere in transito. Insomma, il coacervo di giocatori che ha a disposizione, di calciatori che fanno parte della rosa dell'Inter, è contrassegnato da una certa impermanenza futuribile. Restano, non restano, sono anziani, rinnoveranno il contratto, ce ne sono nove che hanno il contratto che scade. E soprattutto non si capisce bene che cosa possa e debba fare l'Inter la prossima stagione. Anche questo è un tema di clamorosa incertezza. Cioè, anche un giocatore che ha un contratto ancora abbastanza lungo, si chiede, ma io in che squadra giocherò l'anno prossimo? Perché se tutti gli anni devi fare un utile di bilancio, e devi cercare di toppare le falle di una proprietà che non è più in grado di bastare a se stessa, beh, diventa difficile anche credere nel progetto. Certo, in una situazione di questo genere servirebbe il grande condottiero. E Inzaghi non è un grande condottiero, è probabilmente un ottimo allenatore, ma non è uno che ha saputo catalizzare intorno a sé i sentimenti del pubblico, dei tifosi. Cosa fondamentale, bisogna essere ruffiani. Conte è un grande ruffiano, Mourinho è un grande ruffiano, però questa ruffianeria funziona, Pioli per esempio non lo è, ma Pioli vive in una situazione ben diversa, e ci arriveremo. Provate a pensare però che cosa distingue l'Inter in questa stagione rispetto agli altri club. E beh, è la totale inconsistenza della proprietà. Cioè, tutti gli altri club di Serie A, bene o male, sanno di avere una proprietà forte, o comunque affidabile, con una progettualità a medio termine. Vogliamo parlare delle grandi rivali dell'Inter? Insomma, malgrado tutti i guai della Juventus, c'è una proprietà forte, sana, che ha ripianato dei debiti, che comunque ha la forza di andare ancora avanti, nelle diverse situazioni in cui si verrà a creare, in base ovviamente alle sanzioni che subirà. Il Milan ha scelto una nuova fase, e la sta conducendo bene, di rientro dei costi, ma di sostenibilità, e anche il Milan, al di là del fatto che ci può essere il calciatore, citiamo Leao, che non si sa bene se rimarrà o andrà, ma nella sostanza c'è un gruppo relativamente giovane, di giocatori che sanno bene o male di essere un gruppo, su cui si continuerà a fare affidamento in avanti. Vogliamo parlare del Napoli di De Laurentiis, della Fiorentina ricommisso. Cioè, qui parliamo di proprietà, presidenze, progettualità a medio termine dell'Inter. Che cosa sappiamo? E che cosa sanno i giocatori che giocano per l'Inter? Boh, sanno che c'è un proprietario cinese che è pieno di debiti, che dovrà restituire 300 milioni tra un anno, e che sta cercando dei prestiti, per pagare i prestiti, con tassi di interesse sempre più pesanti, e che, insomma, non c'è nulla su cui poter basare la certezza del futuro. Ecco, in una situazione di questo genere è evidente che anche l'allenatore, che è un allenatore che non è ancora mai stato protagonista in grandi realtà di primissimo piano, pur rispettando quella della Lazio, è il primo che poi può andare in difficoltà. Ma davvero vogliamo parlare di come è stata costruita per cause di forza maggiore l'Inter negli ultimi anni? Cioè, l'Inter che ha dovuto fare dei sacrifici pesanti, cedendo Kimi e Lukaku, che erano i giocatori migliori, salvo poi riprendere a Lukaku in prestito solo perché aveva fallito nel Chelsea, che lo ha rimandato indietro e l'Inter ha cercato di fare l'affare dell'ultimo momento. Ma è una squadra che ha una serie di parametri zero impressionante. Onana è un parametro zero, Darmiane è un parametro zero, De Valle è arrivato come parametro zero, adesso è considerato un po' obsoleto, Acerbi è un parametro zero, Michi Tariane è un parametro zero, Cialanoglu è un parametro zero, Dzeko è un parametro zero. Cioè, stiamo parlando non di un allenatore che ha la squadra vincente, che investe con una proprietà forte sul futuro in un progetto. Stiamo parlando di un allenatore che sta cercando di gestire un ridimensionamento che rischia di diventare anche verticale per certi persi e che tutto sommato impatta sulla credibilità del momento, sul gruppo. Certo, torniamo al discorso di prima. Probabilmente, dopo essere stati abbandonati in malo modo da Antonio Conte, l'Inter aveva bisogno di un guru, di un allenatore capace, con il suo carisma da solo, di essere il collante di una serie di giocatori che sono arrivati o sono partiti e che non sanno quanto rimarranno. Ma è anche vero che l'allenatore catalizzatore, il guru, chiamiamolo così, costa caro e ha grandi pretese. Perché non è vero che Conte non vede l'ora di tornare nell'Inter. Perché Conte di tornare nell'Inter in queste condizioni, l'Inter che deve fare i saldi di mercato, cercare i parametri zero e probabilmente tutti gli anni fare dei sacrifici per migliorare il bilancio, il signor Conte non ne ha voglia di mettersi in gioco in questo modo. Come non ne avrebbe avuto voglia oggi probabilmente il signor Murigno che sta alla Roma ma già fa sapere che se la Roma si ridimensiona troppo se ne va via. Ecco perché dico che pensare che l'unico problema dell'Inter sia il signor Simone Inzaghi è un grave errore. Pensare che ci sia la fila per prendere il posto di Simone Inzaghi tra allenatori di grandissimo prestigio è un altro errore. In questo momento tutto quello che si può fare è cercare di essere vicini a Inzaghi per il bene dell'Inter, vedere a fine stagione che cosa fare con lui in base ai risultati che arriveranno perché è evidente che malgrado tutto l'Inter può ancora arrivare tra le prime quattro in campionata, può ancora paradossalmente arrivare in semifinale oltre della Champions League, può arrivare a vincere la Coppa Italia quindi tutti i giudizi che possono essere dati oggi su Inzaghi sono prematuri anche se si è capito una cosa importante che l'Inter ha bisogno di un istrione. È vero, magari di uno tatticamente meno raffinato, magari di uno come Juric, uno permaloso che fa la guerra con tutto e con tutti, ma intorno a cui si può identificare di nuovo una tifoseria e magari un gruppo di giocatori. Ecco, questo è il vero problema oggi di Inzaghi non essere riuscito a porsi in questa chiave e probabilmente è quello che sta pagando di più e lo si è visto a mio modesto avviso in maniera preoccupante proprio dalla conferenza stampa di Inzaghi nel dopo partita. Questo si lascia fortemente perplessi. Grazie.